Benvenuti ragazzi in questo nuovo video barra live con la seconda, il secondo dev diario in questo caso di Manacca Borneo Ace Non so se 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 legge così, quindi se non se legge così non picchiatevi ragazzi perché io in inglese, italiano e io inglese Questo sono io, questo è l'inglese, abbiamo litigato Allora ragazzi, parliamo della cosa più semplice, parliamo appunto di Manacca Che comunque penso che tutti sono interessati, che cazzo di fine fa Manacca? E' nerfata? Bustata? Perché gli hanno dato i territori? Perché non gli hanno dato questo e quell'altro? E lo spieghiamo in modo semplice, andiamo a vedere insieme tutta questa roba E ringraziamo sempre il signor Jumper che ha alloverato, che lavora per questo progetto con noi Allora ragazzi, Manacca, la nazione non ha disastri ad inizio del game E grazie a Dio, dopo Mkmer che me l'hanno sminchiato, più o meno E Machiaphyte proprio ho tagliato le mani, qualcosa di decente doveva arrivare Però, sempre ad inizio del game ha un privilegio degli estates specifico Ovvero, questo qua, che si chiama Orange Laut Alliance Che dà Domestic Trade Power più 25% Più 15% di influenza per la parte della borghesia In questo caso, più 10% di equilibrium E perde 5% di assolutismo, meno 5% di assolutismo Non ha effetti negativi in questo caso perché modifica una cosa buona Domestic Trade Power più 25% Non sono da buttare, anzi penso che sia abbastanza buona L'unica cosa è che magari, effettivamente, la borghesia dovrebbe trovarsi con tanta Come si chiama? Come ho detto prima? Influenza, ecco appunto Allora, possiamo vedere che Allora, andiamo a vedere appunto le missioni In questo caso di Malacca Che sono le abbre, le missioni, le idee di Malacca Andiamo a vedere Andiamo a vedere questa qua Che secondo me saranno interessanti Questo non ho proprio letto tantissimo Però Jumper è stato intelligente a fare le cose bene E ve le faccio vedere anche perché Comunque Jumper dobbiamo metterlo sul piedistallo Per quanto riguarda il Devoran Possiamo vedere che nell'albero ci sono vari colori E si indicano a chi sono disponibili le nazioni Cioè nel senso che Praticamente ci sono alcune missioni che sono disponibili anche per altre Ok? Che sono più o meno simili o uguali proprio praticamente Rosso, disponibile solo a quel tag specifico Ok? In questo caso è specifico per Malacca Verde e Bull, disponibile solo alle nazioni di cultura Malaya Quindi vediamo magari sono missioni generalizzate Per tutta la zona di Malacca Tutta l'isoletta dove c'è Pasai E tutte le altre varie nazioni Che sono praticamente missioni un po' condivise Viola disponibile solo a chi ha A chi forma Malaya Ok? Quindi In questo caso per avere la disponibilità di queste qua Tecnicamente Se sto dicendo una cazza Lo commentate O qualsiasi cosa Praticamente chi forma Malaya Avrà lo sblocco di queste missioni Praticamente Semplice Penso che sia abbastanza Intuitivo Questo qua Questo qui eh Questo qui Non so se vedete il mouse Se non vedete il mouse E dove c'è scritto Trade supremacy Unit Nausal Come cazzo si scrive E varie cose Ok va bene Tranquilli Andiamo avanti Effettivamente andiamo a vedere Sì vabbè Comunque capite il colore Penso che il colore è viola lì sotto E il resto Vabbè Penso che si capisce Detto questo Passiamo effettivamente alle missioni Per Malacca Le missioni danno Subject Casus belli Quando Quando ha senso darli Storicamente parlando Quindi praticamente le missioni di Subject Sono praticamente Abbastanza Cioè sono storiche in questo caso Andiamo a vedere anche Che sono La missione Subject Pahang Chiede di vassalizzare Pahang E in cambio Da allora Un re della tua dinastia Ld ridotto è diventato Della tua regione Quindi praticamente Questa persona Ha il desiderio di libertà Abbassato E in più Cambia religione Trasformandosi In quella religione Che tu sei Quindi in questo caso Malacca Se non ricordo male Dovrebbe essere sunnita Malacca non è più Un tributario Nel 1444 Infatti La missione Emiserity Tu ti permette Di riallacciare Rapporti con i Ming Quindi effettivamente Tu puoi riallacciare Rapporti con Ming E affrontare Non so se Effettivamente Chiede Di diventare In questo caso Di nuovo Un tributario O meno Questo comunque Lo scopriremo più In game Più che altro Poi andiamo a vedere Befriend Ciampa È una missione Che ti chiede Di diventare amico di Ciampa Quindi abbiamo anche Delle missioni diplomatiche Formare un'alleanza Con Ciampa Con Malacca Ed è quasi condivisa Da Ciampa Ah ok Anche Ciampa Praticamente In questo caso Vediamo Sia Ciampa che Malacca No più o meno Le missioni uguali Allora infatti Ciampa stesso Ha una missione Andiamo a vedere ragazzi Ha una missione Che ti chiede Di darti Di farti amico Una nazione Nel sud-est asiatico Ah ok Quindi in questo caso Ragazzi vediamo Che Ciampa Effettivamente C'è una missione Un po' Diversa A differenza di Malacca Che invece Malacca È un po' più specifica Quando Ciampa Completa la missione Diventa Sunni Quando invece Viene completata Malacca Da Subject In caso su Belli Su Dai Viet Oh minchia Ma è buonissima Sta cosa ragazzi È buonissima Questa cosa è buonissima La missione Make a show of force Ti chiede di avere Un'armata più grande Di matcha Vedete Siak Combinati Un cambio Siak Diventa tuo vassallo Addirittura La missione Developent Malacca Beh ragazzi Per le missioni Effettivamente Per le missioni Malacca È bustata Parlo del Mio pensiero È bustata Perché può sembrare Nel fatto Ma in realtà Secondo me Non lo è Anzi È veramente OP questa nazione In più Comunque puoi fare Questa cosa Appunto Fare subject Contro altre nazioni Vassalizzarli Con le missioni Come tra cui Siak Che diventa Tuvo sale Veramente ottima La missione Veramente belle Mi piacciono Fino adesso La missione Developent Malacca Può farti avere Un cotta A livello 3 Se tu debbi Un po' La provincia Ci costruisci qualcosa Ti fa avere Anche un forte Gratis Avacrucaz Quale mission Dov'è questa Develop Malacca Ma è buonissima Ma ragazzi È buonissima Questa missione Può farti avere Un cotta A livello 3 Se tu debbi Un po' La provincia E ci costruisci qualcosa E in più Ti fa avere Un forte Gratis Ragazzi Questo È veramente Ottimo Cioè questa è una missione Veramente Da dire Ops Scusatemi Da dire Veramente Un bacione Proprio azzeccoso Loyal subject Ti dà Meno 10% Alledì a tutti i tuoi subject Fino a fine game Allora Questa ci andiamo un po' Allora Quindi c'è Ok questa qui Che si trova Proprio Loyal subject Proprio sotto Develop Malacca È veramente buono Meno 10% Quindi se hai vari vassalli Non è male Come cosa Poi c'è Destroy Machapite Ti chiede di fare in modo Che la tag Machapite Non esista più E ti chiede di avere Delle province Nell'isola In compenso Di da un casus belli Speciale per Malacca Le campagne Malacca Esso può essere usato Contro tutte le nazioni Di cultura Malaya E dà Meno 25% Di world score Cost sulla vassallizzazione Ragazzi Questo Cioè Malacca io lo voglio Nel cazzo di torneo E non voglio sentire A, B e C Che non si deve mettere Ragazzi Questa è bellissima Questa è un'azione Da torneo Ragazzi È bellissimo Un bel pic Questo qui Le idee invece di Malacca Saranno le seguenti Tra le le lezioni Più 10 Ah vediamo un po' le idee Speriamo che siano Un po' più decenti Tra le lezioni Quelle tradizionali Che parte di base Sono più 10 Global trade power Non male Ma potrò mettere di meglio Più 33% Naval force limit Questo mi piace Perché effettivamente Malacca Finalmente si sente un po' La flotta Meno 10% LD Cioè Quindi desiderio di libertà Su tutti i suoi vassalli Più 25% Total vassalli in commo Prima idea è buonissima Effettivamente Con le missioni che hai Attimamente a vassalizzare Praticamente tutti Idea La seconda idea Global ship trade power Più 20% Non male Terza idea Più diplomat Reputazione Non male per controllare I vassalli Più 1 Tellorenza Proprio religione Inutile Idea 5 Più 20% Trade sharing power Più una cultura accettata Non malissima Ma potremmo mettere di meglio Più legittimità Legittimanza Per la scritta in italiano Legittimità Che secondo me Fa anche cagare Idea A meno 10% Costa ci sta Ambizione Più mercante Allora Sincero Qualcosa è buono Ma qualcosa Anche cagare Tolorenza Proprio legittimità Mi fa cagare Legittimità Mi fa cagare Effettivamente Trade sharing power Ci sta Più Vabbè Questo è anche Più o meno Accettabile Pur questo diploma Diplo più uno Non è che Chissà che Però Mettiamolo Dai Ambizione Più mercante Vabbè Ci può stare A livello di idee Non è chissà che Comunque è basato Sulle navi Sul sottomettere gli altri Sull'economia E commercio Praticamente Che Non è Malissimo Andiamo a vedere Ragazzi Anche il resto In questo caso Di questo deb Diari Che è abbastanza Lunghetto Ora vediamo Anche L'emissione Delle idee Di ACE Sono condivise Dal PASAI Quindi abbiamo capito Ah ok Sono due nazioni Che hanno più o meno Le stesse idee Quindi PASAI E ACE Completare l'emissione The Pork Of Mecca Ti dà Dei seguenti bonus Ti fa usare La trade police Propagata La religione Con solo il 35% Trade power Dal 50% E ti dà Un nuovo caso Sbelli contro le nazioni Con cultura primaria Su Matram Sword of Islam Che ti dà l'accesso Minchia quanto è lunga Sta cosa Ti dà Access al trattato Force Ah buonissimo Questa cosa Interessante Non è male Quindi praticamente Ti dà I bonus Che sono praticamente La propaganda Della religione Con solo il 35% Di trade power Dal 50% Ti dà Un nuovo Un civico Casi sbelli Contro le nazioni Di quella cultura primaria Su Matram Dovrebbero essere Cene varie In questo caso E in più Ti dà Anche Force Religione Che puoi cambiare La religione Alle altre nazioni Che Questo caso sbelli Si evolve più avanti Nelle missioni Quando finisce questo ramo Di missioni Il caso sbelli È disponibile Su tutte le nazioni Con un altro gruppo Religioso Rispetto al tuo Vabbè Quindi praticamente Questo caso sbelli Si evolve Completando Diciamo Il ramo Che riguarda Penso Queste qua Le missioni Di caso sbelli Quindi Islamiz No Islamiz Sumatra Islamiz Java Islamiz Ok Quindi Praticamente C'è proprio Le missioni Basate Sulla Religione Praticamente Devi portare L'Islam Ovunque Ora Lindo e Buddisti Possono Convertire Al sunni Pacificamente Se diventa La religione Dominante Ah Buono Questo 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 è Interessante Se diventa La religione Dominante Infatti È scelta tua Se utilizzare La forza O il commercio Per convettire Le nazioni Questa è una cosa Molto interessante È veramente bella Come cosa È una funzione Che è particolare Perché effettivamente Tu quando sei cattolico Le varie religioni Per esempio Da cattolico Puoi diventare Protestante Riformante E oppure Da protestante Riformante Le varie religioni Che riguarda Diciamo Il cristianesimo Ma diventare Le altre religioni Non puoi farle Con un click Ma devi farti Praticamente Conquistate Le rivolte Religiose In questo caso E invece Qua vediamo Che comunque Tu puoi fare Se la religione È dominante In quella nazione Comunque Tu puoi avere Poi convertiti A questa religione Penso che sia Comunque basato In base Alle missioni Appunto Che completi Di Ace E dei Pasai Vabbè Le idee invece Di Ace E Pasai Saranno le seguenti Tradizioni Ship cost Siamo meno 10% Inutile Missioni stranger Più 2% Penso che sia Per appunto Questa cosa Della religione Più 10 Global trade power Ma Potremmo mettere di meglio Meno 25% Missioni Mantenimento costo Potrebbe esserci Visto che è Comunque basato Sulla religione Meno 10% Provincia World costo Facendo la guerra Anche contro Lette religiose Non ti costa un cazzo Conquistare Più 15% Naval morale Questo è buono Per chi comunque Usa le flotte Meno 10% Technology cost Che non è male Meno 1 Interessi Jumper Tu mi devi spiegare Adesso Che cazzo intendi Con interessi Ah Ho capito No niente Sono io Stupido Non ci ho pensato Ed è Global Set Growth Più 20% Quindi puoi anche Colonizzare Missioni P10 Produzione Efficienza Potevano mettere Anche qui di me Non chissà cosa Ma comunque Sono interessanti Come missioni Andiamo a vedere Adesso ragazzi Anche un'altra nazione In particolare Che Il Brunei Che sinceramente Da come ne avevano parlato Nell'aggiornamento Sembrava Un pic importante Quanto Quanto Malacca Ma invece Ho notato poi Che le missioni Effettivamente erano Ridotte Quindi un pochino Sono rimasto deluso Per Brunei Perché mi aspettavo Mi aspettavo Alzo le mani Un bel Brunei In torneo Allora Le missioni De Brunei Si concentrano Su conquistare L'isola De Brunei Le Filippine Vabbè Classico Era anche Ovvia Come cosa Le missioni Sulu E Impress Mainila Ti fanno Vastalizzare Queste due nazioni Se le tue Relazioni Sono alte Abbastanza Ah ok Quindi Le missioni Sulu Quindi praticamente Impress Sulu Eccolo qua Sulu Aspetta Forse sono sbagliato Ah no Questa Ho detto bene Praticamente Devi Impress Mainila Ok Praticamente Poi vastalizzare Queste due nazioni Sono abbastanza alte Le relazioni Non male Come cosa Molte missioni Del Brunei Ti danno bonus Per la velocità Di colonizzazione Del Brunei Vicino a te Quindi praticamente Una nazione Basata sul colonizzare Diciamo quell'isola E occuparsi delle colonie Penso un po' anche Quelle Filippine Vedremo poi Le idee del Brunei Invece saranno le seguenti Tra le dizioni Più 10 land morale Che comunque non è male Anzi Penso sia abbastanza decente Decente Meno 10% Cost Ship cost Non mi piace Più 20% Danno galee Quindi qua vedremo Un Brunei Veramente forte Per quanto riguarda Le galee Poi vediamo Seconda idea Più 10% Global Solid Modifier Vediamo la terza idea Più 1 Diplomatica Reputazione Meno 10% Desiderio di libertà Di tutti i suoi Vassali Quindi Personal union Subject E vari Più 20% Colonial growth Che non è malissimo Idea stessa Anche questa è interessante Più 15 Naval morale Più 10 Trade Efficienza Ambizione Più 10% Ship durabilità Qua ragazzi Vediamo Un Brunei Veramente interessante Per le idee Attualmente Quello che mi piace Di più per le idee Proprio è Brunei Ha veramente Una buona flotta Praticamente una flotta Veramente rispettabile Comunque Coloniale anche Non è molto basato Come c'è solo Più 10% Trade Efficienza Ma comunque Abbastanza decente Come un'azione Militarmente Navalmente Finalmente Adesso vediamo Non solo La flotta inglese Che spacca il culo Ma vediamo Qualcosa di interessante Oltre a questo ragazzi Questo era Il dev di Ari Il secondo Dev di Ari Per quanto riguarda Questa patch Che vedremo Forse Se tutto va bene Verso Metà settembre Ottobre Vedremo Io non lo so Sempre la paradox Decide tutto Niente che dire ragazzi Sono molto sorpreso Per Malacca e Brunei Che sono quelli più interessanti Un pochino deluso Per le missioni Di Brunei E Acia Mi aspettavo Qualcosa un po' più interessante Non sono brutte Sono abbastanza interessanti Mi aspettavo Un albero un po' più Grande In questo caso Però del resto ragazzi Interessante Interessante Veramente interessante Questo dev Ci sentiamo La prossima settimana Con un nuovo dev Ovvero di Dai Viet Ragazzi Non mancate Mua Mua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti